La manifestazione è da dieci anni che la facciamo insieme al GAMS, che è l'associazione di autostoriche federata ASI della zona, hanno una serie appasolata e quindi stiamo in facendo si è creato un bel verso d'inizio che di anno in anno si cerca sempre di migliorare. Quest'anno devo dire che sarà la migliore delle nuove già fatte perché facciamo un po' più di chilometri, avevo avuto, grazie a voi, il piazzale del mercato dove avevano fatti delle prove crometrate con un percorso con dei dirili dove il problema appunto è la precisione del passaggio più della velocità. Poi ci muoveremo verso l'attore industriale, dove ci sono a Sacconago e delle altre prove, e poi ci posteremo verso Gormate anche per fare un po' di tragitto, per far muovere, perché lo scopo è anche di una gara sì, ma far muovere queste macchine d'epoca che hanno bisogno di fare città per un mercato di fare un po' di circa. Ragazzi! Due è stata un po' di Kleinanze.